Il contesto è completamente diverso. State parlando di una partita di tre anni fa. Certo, noi e il Valencia siamo squadre diverse. Se non ricordo male, all'epoca Debussy era in panchina, eppure Gervinho. Si trattava dell'Europa League. Non ricordo, ma di sicuro c'erano partite importanti prima e dopo quella in campionato. Ciò che ricordo è un primo tempo di fatica e sul 3-1 per loro comunque potevamo rimontare. Ma onestamente non è importante ora. Ciò che importa adesso è la partita di domani. Noi dobbiamo fare punti perché abbiamo perso in casa contro il bate Borisov e proprio come in Ligan, quando perdi punti in casa, li devi fare in trasferta. Il problema è che la Champions è molto breve, sono solo sei partite, quindi dobbiamo fare presto.